boh 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 una mattina nooo ragazzi un problema bestiale si è aggiornato chrome e quindi? ho tutte le welcome sminchiate vabbè non si è aggiornato chrome infatti non si può rimanere non c'ho voglia di sistemare le cam porca miseria perché adesso ha cambiato un pochino l'hud e quindi il pezzo sopra di chrome la barra è un pelo più spesso a me non l'ha non si può mettere tra virgoletta il tema di prima dai mi sono perfetto ma perché c'è aggiornato che tu è windows 11 no se non cazzo è chrome mica ho aggiornato windows e magari è chrome per windows 11 ma non penso che chrome si aggiorni per windows è perché a noi no è perché se avete sarete più indietro si aggiornano scaglioni chrome ma tocca di installare obs quindi ma dimmi tu chiudiamo il canale che è successo c'è aggiornato chrome quindi mi si sono sminchiate le webcam perché c'è la barra sopra più grossa dai devo rifare tutto devo rifare vabbè fai intanto che leggiamo le notizie ma manda la sigla ragazzi sigla eccoci qua io non ho cambiamenti per ora perché non ti sei aggiornato chrome mortacci sua comunque no non devi modificare nulla tu devo semplicemente ritagliarlo e rispostarlo un pelo più in su le le webcam quindi ma poi si sminchia a noi no noi abbiamo il nostro ancora perché non si aggiorna a noi non importa perché non si aggiorna a chrome non è non è non è non è come si chiamava che si cambia salame da sugo mi pare non è salame da sugo si allora è uscito vabbè questa la leggerò nel tgcom ma secondo me l'abbiamo è successa qualche tempo fa però vabbè è la notizia di oggi quindi io la rileggo però intanto io mi metto al lavoro prego fate pure voi intanto allora amici bellissimi e amiche altrettanto carine abbiamo delle notizie particolari oggi per la rassegna e quando intendo particolari intendo tipo tifosi del foggia insultano Kevin Bonacina sui social ma sbagliano persona sono un metalmeccanico non l'arbitro stavano insultando sui social l'arbitro a questo ha detto ragazzi io guarda sono l'officina giuro non c'entro niente io con questo discorso hanno sbagliato persona povero cristiano ma andiamo avanti ulteriormente con un'altra delle nostre non capisco il problema sinceramente io non capisco il problema affitto appartamento a signora no cani no bambini l'annuncio della proprietaria di casa scatena le polemiche la casa è sua decide lei non è la prima io anche quando facevo la gente capitava spessissimo che qualcuno ti chiedesse non possono venire animali non possono venire dai bambini non è mai bambino è strano ma i cani scusa non mi distruggono la roba non mi sembra effettivamente una notizia cioè è già successo succederà ancora e non non so perché è diventata una notizia io appunto mi era capitato più di una volta che il proprietario chiedesse purtroppo qua cani non si può no perché magari bambini è la prima volta magari tutto il condominio non vuole sentire abbagliare ci sta cioè è una regola magari del condominio oh Ciscone è bello tanto amore a tutti è stato molto difficile grazie grazie Ciscone Diablo l'ha letto proprio alla giapponese ha letto proprio Diabolo perché a me no Ciscone sono quello che ti vuole chiaramente più bene di tutti e tre comunque grazie è bello mi raccomando ecco il lavoro mi raccomando non ha senso perché cioè è casa sua decide quello che vuole non è una cosa che fa notizia ma per il semplice fatto che è già successo ognuno decide quello che vuole poi ci vogliono comunque dei limiti no bambini è la prima volta che lo sento mi viene in mente Rimini che è un merdaio di disastro perché con l'immobiliare fanno il cazzo che gli pare e dovrebbero dovrebbero fucilarli in particolare a Rimini ah vedi contestazioni che non hanno un fondamento giuridico infatti l'annuncio riservato a varie cose nessuna legge vieta ai proprietari di imporre dei paletti ancora spero che non riescano delle leggi per imporre dei paletti ai proprietari non di questo tipo magari perché no quelle che dicono solo a donne avvenenti roba del genere quello no no ma anche cioè proprio più in generale a Rimini che per carità è più o meno anche giusto non lo fanno se ne approfitto del fatto di fare la casa solo vacanza cioè affitti la casa per tutto l'anno in un certo modo poi d'estate diventa solo invece per il mare quindi devi cacciare quelli che ci stavano prima durante l'anno e solo per far entrare quelli che pagano molto di più per la casa d'estate e tutte ste robe qui è un merdaio comunque ragazzi io quando lavoravo in agenzia capitava spesso che chiedessero no cani soprattutto i cani perché magari è proprio lo stesso condominio che nell'assemblea condominiale hanno deciso non vogliamo cani perché non vogliamo sentire a bagno e roba del genere è quella la regola del condominio purtroppo ragazzi non ci siamo dei bambini ripeto la prima volta che mi capita di leggere no bambini perché non so questo non è mai successo però dei cani capitava spesso e appunto non è una notizia ce lo possono fare perché siccome dicono che è un appartamento già ridato semplicemente non vuole che gli rovinino i mobili che ci sono non so però ragazzi ovvio che fosse per me gli direi chi se ne frega però ovvio che ognuno fa quello che vuole cioè non è una notizia ecco il discorso è quello non è una notizia c'è da decenni questa cosa grazie Druddy poi abbiamo cento anni dopo l'estinzione i mini canguri betong tornano a saltare nel sud dell'Australia sono dei piccoli topolini cangurini figo figo dai non so cos'altro dire andiamo avanti dopo i cartelli passiamo alle case vediamo un po' cos'è una notizia esatto perché c'è il regolamento condominiale prima di tutto il resto se non va contro le leggi statali possono fare quello che vogliono eh sì il condominio c'è tra l'altro Angelo Greco che ha fatto dei video recentemente che l'ho ascoltati proprio sul condominio e fa vedere che in realtà abbiamo meno potere di quanto pensiamo su tante cose perché se il condominio decide una cosa è così affitti Bologna spunta il monolocale più claustrofobico di sempre la cucina è da incubo che schifo ragazzi se quella la foto è veramente una merdaccia è praticamente ad angolo tutta storta con il lavello che è incastrato in una roba che non è neanche quadrata quindi fa senso perché c'è sta roba quadrata e la roba tutta strana incastrata vabbè fa cacare la roba schifosa comunque mamma mia vabbè andiamo ulteriormente in Nance sempre con Seor che ci dice va alla ricerca di un ristorante vegano e registra questa scena inaudita dove è successo c'è una tizia sul balcone che si spulcia i piedi dove tagliava le verdure proprio di fianco al coso dove si taglia le verdure c'è c'è una signora che si prende le dita dei piedi e ci si spulcia dentro che sbocco che sbocco cos'è Toscana a Praga a Praga so perché mi sembra Firenze si a Praga che schifo ragazzi sbocco veramente che stronzi poi ecco questa è la notizia strana di ieri c'è stata una rissa di Balotelli e questo non è strano il fatto che erano travestiti da Pikachu e da Casa di Carta cioè da quello dall'omino che fa la rapida Balotelli era vestito da Pikachu e si sono menati con della gente vestito uno da Pikachu uno da tizio della Casa di Carta molto bello praticamente da quello che ho detto lui era con il direttore sportivo del Sion che è la squadra di Joker e erano travestiti da Pikachu e da Casa di Carta poi c'è stato un parapiglia questo qua ha tirato un pugno a uno e ha tirato il pugno al suo DS e quindi poi DS è direttore sportivo è il suo direttore diciamo e poi non so se è un Nintendo comunque sì Balotelli nel tirare un cazzotto ha preso il suo compagno oh mio Dio è andato unlucky purtroppo per il signore Casa di Carta per il signore Casa di Carta che si è preso un cazzotto a Balotelli che piccolo non è ecco diciamo quindi male un pochino di male mi salò a sentire andiamo avanti con Venezia spunta una poltrona abbandonata in pieno centro ma c'è un cartello esilarante l'isilarante Marco sono i naip sul cartello sulla poltrona c'è la scritta sto asciugando ho già una casa e delle chiappe amiche perché ci si siede sulla poltrona quindi sto asciugando e ho già delle chiappe amiche che si siedono su di me intanto se qualcuno deve andare in Giappura adesso beato lui il cambio euro iene è a 155 ah è vero è vero l'avevo visto 155 credo sia il record assoluto della storia non che quando siamo andati noi fosse comunque è la 140 però avremmo risparmiato 400 euro probabilmente tra tutto quello che mi ha spiegato ah beh ragazzi all'hackering se devi pagare adesso sì se devi pagare cioè se vai adesso se vai adesso un attimo che controllo di nuovo le notizie ok infatti ce n'era un'altra bene poi mi interrompo allora abbiamo poi di pappone generico l'allunno delle medie non si presenta all'esame il preside va a prenderlo a casa pensavo di fare solo l'orale si è confuso poverino ragazzi dai può succedere avanti stava dormendo e a lui si è risposto in pigiama dicendo giuro che non lo sapevo magari penso anche in Emilia visti i problemi che ci sono avuti che avevano l'esame anche lì e si stava proprio stava dormendo beato andiamo avanti con un chizia di sio andarlo a prendere a casa comunque mi dicevano come andavano i calabinieri se non andavo a scuola si c'era sempre questa minaccia a 21 anni risolve il cubo di rubik in poco più di 3 secondi abbattuto il record del mondo Max Park è il 21enne americano capace di risolvere il cubo di rubik in poco più di 3 secondi non riesco a capire come fare c'è il modo però così veloce no ma qua non c'è solo il cosa di sapere come fare ma proprio le dita che si muovono anche per potertelo permettere va bene andiamo avanti un bambino che ci dice che guidava senza patente questo tizio tizia tizia anzi guidava senza patente portiera finestrino assicurazione con autosequestrava ma la macchina c'era a parte che bambino lui lavora la motorizzazione è arrivato un carabiniere a rinnovare la patente che c'era scaduta da 5 anni c'era accorto del carabiniere e che non ti avvisa non mi ricordo se arriva l'avviso anch'io l'ho rinnovata no non si scioppa della carta d'identità si ti arriva l'avviso ma della patente mi sa di no comunque mi pare sia arrivato un cazzo la donna è stata multata in provincia di Livorno è stata multata per 6.500 euro pensavo anche di più non ti avvisano esatto perché per la carta d'identità ti avvisano per la cosa sanitaria ti arriva in automatico mi sa che la carta d'identità è obbligatoria mentre la patente puoi averlo puoi non averla si però vabbè è un avvisino sul cellulare sai intanto i dati ce li hanno a prescindere di i tuoi alcuni mail ma costa capito la cosa automatica vabbè quindi appunto è stata multata di 6.500 euro andiamo avanti sempre con bambino che ci dice vediamo un po' spacca il salvadanaio e dentro trova 17.300 euro ci sono volute ore per contarli quanto cazzo ci hanno accumulato e quella è la foto è quella di ieri no è un'altra proprio un salvadanaio il maialino è stato rotto maialone in realtà maialone ma il porcone che tra l'altro lo sto facendo anch'io adesso perché siccome ho il portafoglio quello piccolissimo quello che ha anche Mark le monete non ci stanno quindi ogni volta che mi danno il resto tutte le monete le metto in una specie di salvadanaio poi vediamo troppo ma il problema è che io non ho mai moneta io perché ogni tanto pago ancora con i contanti pago spesso con Satispero o del genere però ogni tanto pago con i contanti e tutto il resto in monete lo metto lì vediamo poi io e Francia abbiamo un barattolone e vogliamo iniziare a mettere qualcosina da parte per un giorno se vogliamo farci un viaggio o fare qualcosa un bel barattolone di brodo mi pare no 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 del brodo andiamo avanti sempre bambino con no l'ho riaperto quella vecchia chiedo scusa quella brutta vecchiaccia in due anni no scusami cosa? ma ha accumulato tutti quei soldi in due anni come cacchio ha fatto? eh ma neanche lui secondo me se l'aspettava infatti quando ha trovato 17 in Messico eh mi puzza di qualcosa no no vabbè dai adesso subito la droga le cose embrioni umani sintetici creati con le staminali superflu superflui scusate ovuli spermatot sembrava superfluo ho detto cos'è perché c'era anche la O di ovuli ovuli spermatotoli serviranno a studiare le malattie genetiche devo farlo questa potrebbe essere una bella notizia dipende come si sviluppa però insomma se per studiare le malattie genetiche magari può impedirle eccetera prima della nascita bla 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 potrebbe essere anche una cosa interessante vediamo come si sviluppa poi andiamo in Nance sempre con cerchi alternative all'auto questa bicicletta velocissima va a 135 chilometri orari non credo sia legale quindi ma è in mezzo alle dune del Sahara infatti un lavoretto di fino ragazzi che adesso mi ammazzo guidabile in modo comodo bravo no anche perché avete tutta la foto ah ma è seduto il signore si è tutta come ha fatto ad andare in mezzo alle dune seduto così che ti spacchi tutta la schiena mi date il segno ci sono gli ovuli abbiamo finito tanto dove c'è il suppostone si dove c'è il suppostone ci sono la polizia di singapore dispiegherà agenti robot nelle strade ma già si sapeva già sta roba perché cazzo si sapeva già ma chi è che l'ha avuto questa idea erano già uscite notizie del genere ma sono quei poliziotti tipo quelli che servono in giappone tipo magari per dare indicazioni si un centro informazione si non è che tira fuori il manganello e ti mena altro si chiama Kenobi no ecco no possono creare dei cordoni di sicurezza tipo se succede qualcosa devono bloccare tipo il traffico loro si mettono in mezzo con le sirene e tutto e bloccano il traffico si la gente li scavalcherà come fanno con le cose si chiamano Obi-Wan Kenobi i robot dove l'hai letto? eh ma Singapore impazziscono per Star Wars ragazzi K3 Nob 1 della OneBerry si ma non so se sia quella perché c'è chitto Marina Bay non so se ah no Marina Bay sì in Singapore questo mi fa vomitare voglio schipparlo hanno trovato un calcolo renale hanno trovato il calcolo renale più grande del mondo era veramente gigante pensavo fosse un arancino ragazzi virgola 372 centime si è un pompello ricerca senza di scoprire che possiamo controllare la forma di una goccia grandi ci permetterà di fabbricare dispositivi a tecnologia liquida mediante incapsulazione di un liquido o di un altro per applicazioni quali rilascio controllato di farmaci ah beh che giustamente contro la forma tra l'altro è stato scoperto a Milano politecinico di Milano i più forti in Italia ma no un misto Milano Helsinki Oxford poliziotto fermato ad un altro agente per eccesso di velocità la scena paradossale occhio che parte la pubblicità di Amazon devo guardarlo cosa c'è di paradossale sono due minuti sono non lo so appena mi finisce la pubblicità ti dico se ne vale la pena è paradossale che un poliziotto ferma un altro poliziotto per eccesso di velocità credo sia quello no poi litigano litigano perché si stanno spiegando il motivo lei non sa chi sono io ti più o meno sì vabbè incidente shock in volo enorme uccello si schianza nel parabrezza e resta incastrato il pilota resta impassibile ah questo l'ho visto questo l'ho visto ah un enorme uccello è veramente un enorme uccello è un'acquila è un'acquila ma credo sia mica ferito di brutto o è il sangue dalle luce ah ma in un aereo magari sono i vetri che non è un aereo planino di quelli piccoli ma cioè c'è la foto i ragazzi vedono delle delle zam non vorrei far vedere il video ma si vede un po' l'animale sono delle zam cioè delle gambe umane praticamente a questo animale cioè sono giganti perché altro c'è tutto l'abitacolo pieno di sangue poi eh sì bestia se gli ha sfondato il vetro dell'aereo del tutto praticamente madonna mia poi è il prossimo è il classico rimaltamento della situazione licenziata perché bianca scatta il maxi risarcimento contro starbucks licenziata perché bianca non è in tribunale nel new jersey ha dato ragione a un ex manager di starbucks ora costretta a un maxi risarcimento da 25,6 milioni di dollari beata lei che è stata licenziata allora a questo punto si è messo a posto per la vita ma immagino perché volevano quote nere sì ma mi sembra un esarcimento di 25 milioni no aspetta aspetta facciate inserire tra il resto di due uomini di colore nel negozio del marchio magari dipende da quanto prendeva lei di stipendio 25 milioni è tanto cioè puoi prendere anche 200 mila dollari all'anno ma comunque 25 milioni risondanti siamo molto soddisfatti commenta l'avvocato grazie al cacchio ah perché praticamente è successo qualcosa con due persone di colore sì sì sto leggendo infatti non c'entra niente il discorso della quota l'azienda ha preso provvedimenti contro tutti i dipendenti bianchi anche quelli che non erano coinvolgono allora è un risarcimento comune non solo di una persona se è un risarcimento di 25 milioni se è un risarcimento totale allora ok allora ci sta comunque forse anche 20 persone beh a una persona mi sembra tanto se è una class action allora ok se è tante persone allora capisco l'aumentare del loro valore le avevano detto di mettere in codoglio in codoglio d'amministrativo l'ex manager ma lei ha rifiutato che roba strana madonna che giro più che stop alla regola della L dice Vector ai 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 coda di paglia tra l'altro oggi sono uscite le carte pokemon in Giappone e la stessa pokemon company ha detto di non comprarle perché perché sono sono uscite fuori di testa con i prezzi perché loro le hanno messe in vendita in Giappone all'equivalente di 40 dollari per 20 pacchi praticamente sono andati tutti i useriti li rivendono tutti a 150 150 160 quindi la poco ma evitate il più possibile che le ristampiamo è ormai quello il mondo delle carte proprio loro hanno detto che le ristampano in modo tale da averne di più e da far calare il prezzo perché così non ha senso comprarle ma perché dovevano essere cioè non le ristampavano se no no si le avrebbero ristampate più in là no 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 le avrebbero ristampate più in là però siccome adesso ce n'è un numero limitato sono già praticamente esaurite non lo dicevano così se le compravi poi dopo te le rimettevano loro solo che visto che la gente è disposta a spendere così tanto dicono no no vi preoccupate compratele da noi pagate direttamente esatto sì ma comunque è un disastro hanno già confermato che esce in inglese in italiano a ottobre però non si sa ancora come verrà distrutto è interessante però c'ha delle carte che mi sono piaciute molto però non si sa come verrà distribuito in italiano perché potrebbe essere mischiato con altri set tanto io non ho intenzione metti caso che per curiosità voglio prendere dei pacchetti comunque non me ne frega niente di finire la collezione perché ci vogliono troppi soldi che non ho ho già detto a Yoko riprendere quando torna a ottobre se le trovo là in Giappone me le prendo un po' a 6.000 euro purtroppo no se le trovo a poco ormai prese Moro segmento musicale videoludico volevo dire scusami certo Marco esatto a proposito si può preordinare la collector di Spiderman e sempre gli Spiderman sono in sconto su Steam se volete allora c'è una cosa interessante che fate voi però perché è troppo lungo e hanno incontrato gli sviluppatori di Star Wars Outlaws sì l'ho già letta l'ho letta ieri e se volete c'è tutto l'articolo di multiplayer che poi hanno parlato con gli sviluppatori è confermato che ci sono altri pianeti sono tutti esplorabili e funziona la No Man's Sky sì dovrebbero essere non troppi pianeti però dovrebbero essere no funzionerà la No Man's Sky penso saranno 4-5 pianeti massimo sì sarà come Jedi Suvar si potrà salire e scendere quando si vuole sul pianeta si basa molto sulle reputazioni con i vari tipo gang criminali c'è un sistema di polizia alla GTA ovviamente la polizia è libero in questo caso sì che se tu fai qualcosa ti insegue la cosa che nel video si vedeva in 21 noni hanno detto che l'hanno fatto apposta per renderlo più cinematografico ma si potrà togliere cioè è una scelta tua puoi o non puoi mi fa un po' caccare comunque perché mi piace a me la roba delle bande nere in determinati momenti mi piace quando nei giochi a una certa si chiude lo schermo con le bande nere tipo quando parte è una cazzi che però c'è la transizione da in game a cazzi in fluida e c'è la delle bande nere e robe così così è figa se mi dai il coso di toglierlo metterlo mi fa un po' cagare beh comunque io lo toglierò perché non mi interessa comunque c'è la scelta di scegliere come c'è la solta lì nel filmato hanno detto che c'è la pellicola la grana tipo per renderlo degli anni 70 80 poi togliela tutto come vuoi si potrà giocare al sabac che è quello gioco famoso dei bandieri la dama quella non lo so se è quella quello che si vede nel video no perché è in mano delle carte quindi credo sono un gioco di carte si vedeva nel video poi sarà sicuramente uscirà stand alone vabbè si potrà potenziare l'astronave e la motoretta per andare nei giochi ai pianeti alla Mad Max per davvero non ci saranno schermate di caricamento c'è proprio scritto non ci saranno schermate di caricamento hanno detto che hanno preso caccare no saranno mascherate nel tipo quando usa il teletrasporto a parte che si vedeva quando andava nello spazio se quello lì era tutto gameplay cioè lui quando andava nello spazio si entrava nelle nuvole quello lì era tutto caricamento e usciva che era già distantissimo e era già distantissimo dal e hanno detto che hanno preso ispirazione perché stanno collaborando otto studi di Ubisoft che sono praticamente tutti hanno preso ispirazione appunto da Assassin's Creed da Far Cry e anche hanno preso un po' di da Ghost of Tsushima che dicono si vabbè ma è normale che ti citano Sì hanno preso un po' ispirazione da un po' di giochi è normale che ti citino giochi loro comunque sì e vedremo Ghost of Tsushima no a parte Ghost of Tsushima gli altri sono giochi loro è normale che te li han citati comunque io sono hypato è di brutto e non si potrà visitare i pianeti da subito sarà come GD Survivor voglio andare avanti con la campagna sblocchi altri pianeti e poi potrai tornarci sì non è un sandbox questo come Starfield no diventa sandbox alla fine della campagna ecco di ciò sì che poi hanno detto c'è un po' di Assassin's Creed quindi hanno detto forse solo come speriamo devi andare a sbloccare delle zone speriamo che usi l'analogico sinistro per muoverti spero sia solo quello tra l'altro hanno detto per chi se lo stesse chiedendo no nonostante le somiglianze Star Wars Outlaws non so come si pronuncia bene non ha ereditato niente da Beyond Good and Evil 2 sì perché c'erano delle scene che hanno fatto comparazione che c'erano delle scene molto simili non me lo sono chiesto non me lo sono chiesto perché me ne ero scordato completamente se non me lo dicevano non me ne sarei mai però hanno fatto un video c'erano delle scene simili sì anche erano più erano messe pari e pari e siccome dicono che siccome non si vede più hanno reschinnato quello molti dicono che sia così in realtà dicono provvedolo comunque a me è vero questo gioco intriga da morire e da non fan di Star Wars vuol dire che il gioco ha funzionato ancora di più nel suo filmato perché a me non me ne frega niente di Star Wars merda lo dicono gli utenti non gli sviluppatori anzi purtroppo sono contento però che ci siano giochi che mi facciano cioè che almeno ci sia qualcosa dopo questo summer game che dico oh non vedo l'ora vedremo è uscita la recensione di Layers of Fear intanto gli hanno dato sette e mezzo nei contro hanno messo crea davvero poca tensione quando se ne sono comprese le meccaniche i nemici sono più un fastidio che altro come tutti gli horror come sì quello lì e nei pro hanno messo tecnicamente ottimo storie interessanti e ben raccontate considerando tutto sono tre giochi in uno ma tre giochi in uno? ma non so due Layers of Fear questo c'è anche il terzo forse già questo è il terzo quindi sono il primo secondo e terzo poi vedrete da moro sì lo facciamo questa notte in teoria questo è il terzo buongiorno buongiorno sono due giochi in uno vorrei dire ho sbagliato non lo so se questo è il terzo ci sono terzo secondo e primo forse no quella notizia interessante il remake del primo e il secondo insieme forse lo considerano come terzo una notizia interessante le riprese di Star Wars 10 inizieranno all'aprile 2024 dove non ho preso nessuno infatti non è ufficialmente Star Wars 10 ma è Star Wars 10 perché è il segno ma è quello della nuova saga è 15 anni dopo episodio 9 quindi però continuano comunque la Skywalk loro avevano detto non ci sarà più robe su Skywalker continuiamo con le robe di Skywalker sono veramente su Daisy Ray Ridley sì c'è Ray che ricrea l'ordine Jedi molti dicono lo fa per collegare tutti i Jedi che stanno comparendo nelle varie serie giochi tipo Calcestis del gioco Grogu eccetera eccetera poi magari vogliono tutti prima però magari si pensa che fanno sto film per radunare tutti questi e fare un film con loro perché a fine Calcestis ha il suo attore Grogu c'è magari rimetti altri vogliono fare un film finale magari per finire proprio a 10 fare 10 film di Star Wars arrivare al 10 magari non sarà una trilogia ma non lo so spero di no intanto Mercoledì Adams il cosplay di Kalinka Fox prima il celebre balletto grande Kalinka il problema è che cattivo c'è cioè non so che cattivo ci possa essere o c'è quello di Mandalorian o c'è il cattivo di Mandalorian anche lo portano fino a lì no magari sì no magari c'è il cattivo di Mandalorian comunque il 15 agosto esce Moving Out 2 sì sto vedendo il video di Kalinka Fox ma è palese cioè sembra palesemente un deepfake però vabbè non è la sua faccia quella lì neanche per niente proprio aspetta ma Moving Out 2 sì poi l'avete detta 15 agosto questo non puoi farlo eh sì ma esce su Game Pass Moving Out 2 Boo il tipo in 1 l'abbiamo giocato da lì Moving Out 2 Game Pass Outriders a due anni dal lancio non ha ancora generato profitti e dubito li generi ormai non ho capito c'è una notizia che non ho capito no era di Square Enix e Outriders Outriders perché non si ricorda era quella specie di Destiny però ah beh adesso ho capito non Game As A Service non era neanche brutto solo che era un po' fine a se stesso si giocava in 3 si era era in Coop da 3 volendo comunque a quanto pare i modder del PC hanno detto che trasformeranno Lies of P in Bloodborne visto che non lo vogliono far uscire non già fatto è una mod con il personaggio di Bloodborne con l'armi con la falce con la storta con la corta si si ah ecco qua c'è il video è vero c'è il video c'è perché il moveset mi sembra diverso però non so non c'è giocato non lo trovo è lì nell'articolo ecco sì non trovavo l'articolo fammi vedere no questi siamo noise aspetta dove siete oh sì vabbè hanno semplicemente messo delle immagini oh per carità hanno messo proprio il modello di Bloodborne però sono solo le skin naturalmente eh beh sono tra l'altro l'hanno fatta in pochissimo tempo e appunto fanno così poco tempo eh sì sì chiaramente ma non penso che ma sì occhio occhio agli spoiler di Final Fantasy perché ci sono già copie in giro quindi occhio non che regli gradissimo uno spoiler su Final Fantasy però beh ostia basta non vedo notizie no ah è uscito RGG Summer Summit Summer 2026 c'è il video completo dell'evento dedicato a Like a Dragon che non ho visto ma mi sa che non hanno fatto vedere un cazzo non credo facciano vedere nulla eh anche se non manca molto l'uscita perché se inizia l'anno prossimo non è che manca tantissimo vabbè ma cioè allora non c'è neanche molto da far vedere non penso che non lo stiano facendo vedere perché non hanno roba da far vedere perché il gioco quello è no è che non vogliono spoilerare troppo anche perché il gioco è quello hanno più che altro parlato c'è un video di un'ora e quindici dove hanno praticamente solo parlato se ci siano meccaniche nuove no sì lo spero però il core del gioco sarà quello hanno rifatto vedere il trailer quello di Ichiban e hanno parlato e basta poi c'è appunto hanno fatto vedere delle foto di Like a Dragon Gaiden questa sarà la notizia di ieri credo di sì che Nicolas Cage sarà su Death Stranding esatto probabilmente cioè c'è c'è stata una foto di Nicolas Cage ai Kojima Production Studios probabilmente sarà come su Death Stranding 1 un cameo dei tizi che dà le missioni o robe del genere vabbè sta entrando nel mondo dei videogiochi anche in Close Cage dopo si è preso bene dopo Death by Taylor sì o ha bisogno di soldi sicuramente ma non so quanto possa essere pagato per un cameo però adesso scopriamo che il protagonista principale diventa lui ma non credo lo giocheresti ancora se fosse lui ti immagini io sono soddisfatto così anche senza ti dico la verità in Bracer Group la situazione è molto più grave di quello che sembra in che senso che problemi c'ha in Bracer Group in senso che avevano fatto un accordo da 2 miliardi che però è saltato l'ultimo giorno quindi praticamente c'hanno 2 miliardi di poco meno di 2 miliardi di di buco diciamo quindi hanno deciso di licenziare alcuni un buon numero di sviluppatori e chiudere alcuni studio anche perché loro c'erano tipo 7 miliardi di studi a 3 miliardi di dollari dicono qua erano 2 miliardi di non mi ricordo mi ricordo che c'erano quanto pagò per acquisire Asmodee nel dicembre 2021 porca troia e in Bracer c'era stata la notizia tempo fa che aveva comprato degli studios anche e c'aveva un botto un botto c'era un botto di studio sotto non di grosso calibro però c'è gli anni e aveva preso anche i diritti di il signore degli anelli in trasposizioni in videogioco si era in Bracer che aveva anche detto che vogliono far diventare nel mondo videoludico la saga del signore degli anelli una delle saghe più importanti appunto del mondo dei videogiochi e così Digital Foundry intanto spiega perché 30 fps su Starfield su console si praticamente ha detto che siccome Starfield ha praticamente se tu lasci un oggetto da qualche parte quell'oggetto resta lì e allora per per evitare problemi di caridi frame hanno fatto a 30 frame e non basta abbassare la texture così perché appunto sono oggetti che hanno i loro dati quindi è quella roba io e allora non l'avrei fatto io se non riuscivi a farlo però queste sono cose miei avevano anche la bomboletta gigante di copio di fianco eh sì cioè perché no Digital Foundry è quella che analizza le robe ma io non l'avrei fatto semplicemente mi sono accorto che se faccio così devo rinunciare a tutto il resto non l'avrei fatto su Skyrim robe così non funziona uguale per carità magari per esempio su Z7 allontani sparisce è più pesante però beh ma su Quasol mi sa che girava 30 comunque quindi sì no sì però grazie mietitore grazie mietitore grazie mietitore amici mancano 15 sub a non è vero ne mancano di più 35 sub a dei Minard non credo no i 60 frame li volevano in tantissimi se la spieghi sta roba il pubblico generalista manco capisce che cazzo vuol dire probabilmente anche perché a parte che non ne trovo effettivi cioè come dice Mato cioè praticamente se io riempio riempio una stanza di cestini torno dopo di 100 ore di gioco e la trovo ancora piena di cestini è non è neanche così forte hanno fatto una foto con con dei toast ah sì quello l'ha fatto vedere il video è quello il motivo sì ma è una cosa inutile è una cosa che non ha senso anche perché logicamente se passano 100 ore di gioco qualcuno sarà andato anche a ripulirla quindi magari fai solo in casa tua non nelle cose in giro più che altro mi sembra proprio vedere il cazzo ma anche solo a pensarlo quale può essere il motivo cioè mi viene solo l'immersività è il motivo perché metti anche tipo butti a terra roba unica roba del genere cioè nei giochi fatti bene te li ritrovi in una cassa o salvati da qualche parte cioè i modi ci sono basta comprare sul computer se posso non credo luke cioè si sa già che praticamente girerà di merda anche su pc quindi vedremo chi è che l'ha detto scusa eh l'hanno detto insider o chi per loro ma comunque è già uscita fuori che non riesci a tenere i 60 fps quindi è comunque bethesda quindi è anche abbastanza scontato sperando che entro settembre mitigno il problema ma su pc puoi moddare poi quindi sempre meglio che copiumone è anche questo ragazzi a parte che moddare vuol dire pesanti del gioco ma ci sono su xbox le mod non credo proprio non credo non credo anche perché su pc ha detto eh sì no ma no dico su xbox su gamepass eh no su gamepass mi sa non puoi moddare grazie 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 mille per mettere le cose sugli store per console devi passare prima da appunto da da sony da microsoft che ti devono accettare devono controllare i file accettare vedere che non ci siano problemi accettarli quindi anche fare le mod è più complicato per uscire meno che non abbia un cosplay Fallout 4 sarà immediatamente bethesda sì dopo non al day one no subito anche sky è poi uscito il coso delle mod direttamente da a parte che non credo ci siano mod per migliorare le prestazioni di questi giochi qui quindi anche per chi dubito te le mettano poi nel gioco che figurati ci fanno Skyrim tipo l'anno scorso no ormai è un sacco di tempo che Skyrim ha la cosa delle mod dal menu non mi ricordo quale edizione perché ce ne sono 68 ma sono sicuro che da un bel po' comunque 2020 mi so al domenica c'è un video di genere che ho scritto Skyrimo on Xbox X makes it the ultimate console vabbè sì ma che grazie giochi l'avete detto al finale ma la vedo un po' che è già la situa siamo al finale vuol dire la vedo un po' che è già la situa se non sai dove siamo scusami secondo walkthrough manca meno di un'ora e mezza comunque abbiamo finito anche col giochi c'è McDonald che ha fatto un gioco per Game of Color sì ho visto per l'anniversario allora ho visto Chug il il tizio americano che che si sgonza le bibite a a Catramone che ha bevuto questo slurm al viola che a quanto pare è per l'anniversario di Stamascope è completo di un person sì di Grimace non ho capito un Grimace sì è un personaggio viola è infatti anche un giochino per Game Boy no comunque non è il nostro decimo anniversario no ma di cosa non ho capito del canale ma non credo sia ma questo cosa no ho pensato nel 2015 le live le live nel 2014 YouTube nel 2015 le live ad agosto sì questo non so cosa intendi non ho capito dove ci c'è da fuori perché così a caso nel 2014 YouTube sì ad agosto facciamo 9 anni YouTube e 8 anni Twitch poi hanno confermato che in Payday 3 c'è una nuova meccanica che è quella di scambiare trattare con la polizia e scambiare gli ostaggi per ah figo cambio di qualcosa figo figo poi il cofondatore di Rockstar ha fondato il suo studio quindi ci saranno nuovi giochi Intel ha detto gli addio i nomi ha cambiato i nomi dei processori non saranno più i così sì non sarà più i tre i tre i c'è ci saranno ancora i 5 i 7 i 9 ma saranno tre solo tre tre categorie tre categorie quindi sarà Intel Intel Core per quelle consumer poi c'è Intel Pro non mi ricordo male e quella per grazie Federico di Pascialta è Ultra e Intel Core no non era Intel no era Intel Intel Core e Intel Ultra mi pare avevi scritto no è Intel Intel Core e Intel Core Ultra o comunque Core Ultra quindi sono tipo Core 5 Ultra Core 7 Ultra Intel più numero Intel Core più numero Intel Core Ultra più numero quindi sì saranno e ci sono saranno credo l'equivalente di i3 Pentium e cazzi e mazzi Intel normale sì lì ci sono ancora cioè non c'è la i ma c'è ancora il numero 3, 5, 7, 9 però sono proprio per distribuirle tipo voglio un processore di Pascialta prendo l'Ultra e tu che processorai ho l'Ultra è più capibile secondo loro più numero ho inteso tipo adesso c'è per dire Marco c'ha l'Intel Core i9 9900k da da adesso sarà l'Intel Core Ultra 9900k no c'è scritto l'Intel Core 9 Ultra perché poi il modello viene non devi andare a cercare nel modello diciamo cioè non è più non compri più il 10700 ma compri l'Intel Core Ultra 7 per esempio e poi il modello devi andare a cercare che è più nascosto poi il modello avrà sempre però tu avendo già scritto che ne so medio ultra eccetera eccetera capisci più o meno qual è la fascia senza anche un ignorantino magari capisce cos'è poi ci sono quelli per notebook il numero più alto e il più forte scusa no perché tu per esempio di 5 avevi già un tot di numeri che ti facciano capire qual era meglio qual era peggio adesso tu hai ultra anche adesso medio puoi andare a vedere la generazione che generazione era esatto io per esempio faccio fatica ma adesso medio ultra no Marco perché quello no l'ha detto Moro ragazzi attenzione no sì e vabbè se non capisco niente vabbè ragazzi è stupido purtroppo non capisce l'italiano scusatelo la differenza è che prima avevi due cose da guardare cioè il tipo di processore e il modello però adesso una l'han tolta quindi adesso è impossibile saperlo cioè devi andare a cercartelo ben bene ma è impossibile cambiata col nome quindi praticamente se tu prima avevi un processore di quattordicesima no per uscita dodicesima generazione sai che è nuovo sì invece adesso tu sai che quello nuovo è il core nove diciamo quindi il nove è la generazione credo di sì la generazione è nascosta nel numero del modello che andrà no perché allora se tipo sarà allora mettiamo che la fascia sarà intel intel core e intel core ultra quindi queste qui sono le tre fasce di prezzo e poi la generazione è appunto quindi sarà intel 10 intel core 10 e intel core ultra 10 perché sono della decima generazione così avrebbe più o meno senso sì le generazioni cioè eh no perché quello che avevo capito non sono più generazioni diciamo come l'ho capito io quindi l'undicesima generazione l'undicesima generazione sarà il core 10 o il core 11 invece di essere cioè invece di essere di quattordicesima generazione cambiano il modello del processore quindi invece di essere di core 7 di quindicesima generazione sarà il core 15 ma c'è l'esempio prima c'era scritto intel core i3 adesso è intel core ultra 5 facciamo l'esempio prima e dopo prima tu leggevi intel core i5 intel core i3 intel core i5 intel core i7 adesso è intel core ultra 5 ultra 7 ultra 9 e no allora non è come dici tu Luke hanno semplicemente cambiato a capa di cazzo le robe ah il traslato di 2 no è identico a prima solo che c'è proprio il prima e il dopo c'è anche l'ultra 3 che poi in realtà non c'è neanche scritto ultra c'è scritto solo intel core 3 core 3 intel core 5 intel core 7 che però sarebbero gli ultra no sono intel core gli intel core ultra sono gli ultra ah no no tu hai che ha fatto un merdaio infatti tu hai intel core 3 intel core 5 intel core 7 poi c'hai gli stessi ma con ultra 5 ultra 7 ultra 9 eh ho capito ma non si capisce tu quindi quindi no beh capisci con ultra capisci che è più potente almeno di cosa di rispetto a quello base tu hai quello base l'ultra cioè l'intel core ultra 3 è più potente dell'intel core 5 non c'è l'intel core 5 tu hai intel core 3 intel core 5 intel core 7 e quindi c'è l'intel core 5 e poi tu hai però intel core ultra 5 ultra 7 ultra 9 se c'è ultra sai che è meglio sicuramente di quelli non c'è l'intel core ultra 3 c'è solo l'intel core è come prima cioè almeno qua non c'è scritto intel core ultra 3 l'ultra non è che l'ultra è solo tipo la versione k quello sbloccato no c'è scritto con grafica di livello ARC integrata che non vedrai su nessun prodotto no ma secondo me l'ha fatto perché stavo iniziando ad avere casini con i numeri perché viene arrivato a 9 poi deve arrivare a 11 no ma io allora come l'avevano detto all'inizio io ho detto se c'hai medio ultra e che ne so io capisco che con ultra sto avendo un pc di un processore di fascia alta con medio no però così effettivamente è incasinato perché tu mi dici 3 5 7 poi c'è 3 5 7 ultra e poi non c'è il medio ultra 9 cioè no se prendi un intel core un intel core 9 è comunque di fascia alta non c'è intel core 9 c'è l'intel core 7 almeno da questo grafico c'è intel core 3 5 e 7 e la versione ultra è 5 7 9 con scritto ultra veramente diventata md con i nomi che mischiano gli stessi numeri con schede video e cioè come l'avevo detta io all'inizio era più facile tu mettevi medio e ultra o basso medio e ultra in base alla potenza del processore così proprio papale papale anche chi non capisce niente vedeva fascia media capiva fascia media fascia ultra pensa che apple ha messo adesso c'è l'm2 max mega e hyper non è vero c'è però il max e l'ultra e qual è il meglio dei due secondo te mar no aspetta state facendo no si ripeti moro qual è il meglio tra max e ultra qual è il più forte secondo te ah boh ultra sì però max però non sei una cosa no comunque il now il now dice che stiamo facendo casino perché magari è il sito io ho il sito davanti quindi ovviamente figurati se sono cose che escono fuori dalla mia testa se si parla di sta roba qua non me ne fregano una sega sto guardando dal sito sono curioso anche perché allora questo qui però allora perché per fare chiare se mi parli già di processori eccetera adesso i processori intel funzionano che si chiamano tutti intel core quella è la marca del processore poi il modello del processore è i3 i5 i7 e i9 e questa e queste sono le quattro fasce di prezzo per le quattro fasce di potenza dall'i3 quello entry level fino all'i9 quello più potente dopo c'è il numero che contraddistingue il a me quello manda in confusione di solito più che l'i9 i5 i3 che contraddistingue la generazione perché c'è poi per fare un esempio l'i9 13900k ok dove 13900k sta 13 è la generazione quindi 13 è l'ultima generazione e la più alta è l'ultima generazione 900k k sta perché è sbloccato per overclockarlo 900 è il modello dell'i9 ma quello lì ti interessa anche meno l'importante è il 13 che ti dice la generazione il mio qual è? tu c'hai il 9900k quindi nona generazione però un po' cioè io e poi in realtà se uno te lo spiega lo capisci easy però per uno che non sa è molto facile se te lo spiega uno che non sa legge tutti questi numeri dicono che la prima cifra del processore indica quanto è nuovo quindi un Intel Core Ultra 5 è degli Ultra è quello più vecchio diciamo poi come si confronta l'Ultra 5 con il Core 9 devi andare a vedere te mi sa no così io pensavo fosse molto più easy così è più incasinato secondo me cioè io spero solo che sia cioè l'Intel Core senza Ultra l'Intel Core 7 che è il massimo di quelli normali è meno potente di quello minimo degli Ultra però è quello bisogna aspettare i dati non so cioè in teoria sì perché essendo la base non penso che tornino indietro quindi il minimo arriverà a un certo punto dove l'Intel Core 12 no magari il 12 è ancora presto l'Intel Core 15 sarà più potente di un Intel Core Ultra 5 per esempio perché arrivi a quel punto che è un gran puttannaione ragazzi abbiamo fatto un cazzatore è uguale a prima no no perché già il fatto che devi capire cioè dipende poi quando spiegheranno è uguale perché anche adesso c'è l'Intel Core 5 di quindicesima generazione di dodicesima generazione è migliore di un Intel Core i9 di terza generazione però proprio lì vai a generazioni qua la generazione me la stai completamente sfanculando perché c'è comunque due due fasce separate che si chiamano più o meno simili non si capisce un cazzo però allora stavo leggendo la struttura del marchio del cliente tra cui presentazione del marchio di processori Intel Core Ultra per i processori client più avanzati semplicazione del marchio di processori Intel Core per le offerte client mainstream passaggio al tiering di processori Intel 3579 a partire dai prossimi processori Intel di nuova generazione evoluzione del marchio Intel Evo Edition per i prodotti verificati Evo che non so se sono tipo gli extreme per i portatili ma non potevano mettere tipo delle lettere dell'alfabeto di fianco ai numeri perché loro l'hanno fatto perché cioè che ne so avere Intel Core 7 i7 pensai che cacchio è un i7 invece il Ryzen 7 vai a cercare il Ryzen 7 subito l'MD invece l'i7 devi andare a capire che non è anche il i7 si sa che è subito Intel ma non potevano appunto usare le lettere alfabeti cioè per indicare quella più nuova da quello più tipo la classe energetica tu metti che ne so Intel Core 7 tu hai A, B, C, D e tu capivi che più andavi giù più era più scarso e la A era quello quello lì la generazione e no la generazione tu capisci che ne so se metti A devi mettere un numero per forza la generazione perché? perché dopo un po' finiscono le lettere cosa fai quando finiscono le lettere? eh ma così tu continui a mettere solo numeri però loro hanno detto che l'hanno fatto perché stavano avendo casinato cioè almeno da lì viene fuori la mia domanda non potremmo usare le lettere che sono un'altra cosa comunque perché bastava cioè l'Intel Core il tuo l'Intel Core i9 9900k se volevi far più chiarezza toglievi il 9900k me lo chiamavi semplicemente Intel Core i9 di nona generazione semplicemente però quanto pare faranno cose diverse per i processori ultra per i processori mainstream comunque io non ho capito mi aspettavo un messaggio di AllNow perché ho detto adesso mi spiega cosa non abbiamo capito però non ha scritto niente ha scritto solo aspetta state facendo casino pensavo a scrivere se il messaggio che magari ci capiscono meglio perché non si capisce un cazzone di niente oggi è una bellissima giornata visto che il sito di GameStop sì sì abbiamo già parlato prima ragazzi c'è anche i Spider-Man sconto anche perché comunque avranno ancora il numero no ma io ripeto all'inizio ho detto beh meglio tu mi metti medio ultra invece non c'entrava una sega come avevo capito io all'inizio cioè all'inizio mi sembrava cioè quello che ho detto io mi sembrava top tu mettevi medio ultra no no ma quello che non ho capito io è semplicemente non ho capito la linea la gerarchia di di potenza cioè se c'è Intel Core 3 5 7 e dopo l'Intel Core 7 parte Intel Core Ultra 5 7 9 almeno dal grafico è così già ho capito però se tipo Intel Core 5 e Intel Core Ultra 5 è una versione potenziata dell'Intel Core 5 mi ammazzo che non sia proprio cioè credo anch'io sia una cosa uno ultra e io credo sia un processore proprio diverso sei spiegato al now sì sì sono diversi infatti mi sono perso il tuo messaggio quello che ho appena detto Luke saranno due livelli Core Ultra il numero non è il livello ma la generazione hanno detto che stanno sviluppando prodotti specifici per i processori ultra specifici per i processori mainstream quindi probabilmente avrai i programmi che vanno a meglio con gli ultra e i programmi che vanno certamente come mo però no perché adesso che tu abbia un i7 un i7 o che tu abbia un i5 non fa differenza ma che non siamo proprio usciti a 20 anni di differenza o 10 anni di differenza invece qui magari hai i propri programmi che girano esclusivi su esatto schifo cioè la generazione si legge come prima cioè rimane il numero tipo 9900k o robe del genere non è più così importante ma non è vero perché comunque si chiameranno tipo intel core 5 processor numero tipo 1020 per dire sarà la decima generazione per dire ma se tu vuoi comprarti un computer su media world ci sarà ma probabilmente non c'è scritto manco mo adesso il numero quello lì eh quello quello che si c'è solo scritto i7 o ryzen 7 effettivamente così avrai più chiare le azioni nel vedere se c'è scritto ultra vuol dire che è un tipo se non c'è scritto ultra certo che da come lo mette il sito sembra che l'unica novità sia che hanno tolto la i sì però sì non c'è più la i3 ma è 3 5 7 è da vedere quando escono sì da vedere quando escono ma dati del paragone è difficile capire veramente non lo so esatto da quello che vabbè da quello che ho capito ho voluto cambiare i nomi perché la prossima generazione di Intel sarà un passo in avanti importante rispetto alle ultime quindi poi abbiamo voluto scuotere un po' la cosa tanto il futuro ragazzi sono i pc handled quindi in cloud in cloud no no proprio i pc handled stanno uscendo in cloud dipende sempre dalla nazione purtroppo non dipende molto da cosa fanno loro perché se vivi in una nazione che fanno cagare le linee comunque in cloud voglio vedere come stai giocare soprattutto online comunque c'era dell'altro sì che finalmente arriveranno le sim le e-sim in Italia le lancerò a Iliad la minchia quindi no ripeti scusami non in Italia le e-sim le e-sim le sim che non c'è le sim digitali le sim elettroniche non la volevo fare in Giappone dematerializzate che non sono non sono tangibili sono legati al esisto in Italia c'è qualche altro operatore che ce le ha ragazzo non credo operatori mainstream boh ostia deve andarsi a cercare ma già Vodafone team ma sai che forse è già Vodafone perché per forza con con gli Apple Watch sono Iliad che le implementano no no sì anche perché già con Vodafone per forza con il gatto mi pare con lo con l'Apple Watch c'ha la e sim perché non ci puoi mettere la sim da un po' di anni quindi sì mi sa non è solo Iliad che sì ma si svegliassero tutti perché mi sa che è solo esatto solo Vodafone e team per carità sono solo Vodafone e team quindi più della metà dei consumatori sono quelli principali Vodafone e team e poi PD3 uscirà in Unreal Engine 4 ma passerà in Unreal Engine 5 dopo il lancio però le faceva solo solo per gli orologi Vodafone e team non so io posso avere la mia sim fisica e una copia di sim con lo stesso numero su un altro telefono secondo me sì cioè sarebbe più che altro sull'orologio più che altro è molto utile in termini di sicurezza se ti rubano il telefono non possono togliere la sim già ma infatti non capisco perché cazzo esiste ancora la sim cioè e non un account semplicemente grazie Gebb grazie mille bello grazie bello per i 72 grazie mille bellissimo non capisco come possa usare cioè possa esistere ancora nel 2023 la sim che occupa uno slot fisico nel telefono e boh quando basterebbe una sim una roba un account perché comunque una sim è poco acquerabile beh ma non un account cioè comunque la sim non è proprio un account e basta mi pare e comunque sono clonabili ci fanno di tutto con le sim quindi però mi meraviglia come non abbiano fatto quello step che reputavo molto molto palese vedendo tutti gli altri step che hanno fatto togliere il jack delle cuffie per dire tutte queste menate qui e non hanno ancora tolto la sim boh sì una volta la sim era un'intera scheda telefonica che infilavi nel telefono vabbè e altro una cosa per Mark credo che Bleach Thousand Year Blood War arriva finalmente su Disney Plus il 5 luglio 2023 è solo la prima parte però dell'anime bene e poi le altre cose sono molto contento di Bleach e hanno annunciato la data di uscita di Gallini Fuga 2 che storia me la son persa questa come il 15 dicembre che storia Netflix e l'ultima cosa che non c'entra niente dopo 23 anni ricordiamo sì esatto l'unico scienziato che ha camminato sulla luna ha scoperto di essere allergico alla luna questa è vecchissima alla luna alla luna è uscita quando era andato 40 anni alla luna alla polvere è una cosa particolare è iniziato a starnutire ad avere prurito ovunque dopo essere rientrato comunque anche se rientri la polvere il giro può essere sì che storia va bene darei la linea al suo almanarco prego almanarco ecco qui oggi venerdì 16 giugno abbiamo San Taureliano di Arles San Quirico e Giulietta o Giulietta martiri San Ceccardo vescovo e martire Santa Luzgarda religiosa San Bennone o Benno di Maismen vescovo i Santi Ferreolo e Ferruccio martiri a Mendola San Palerio di El Telese vescovo San Similiano di Nantes vescovo Santicone di Amato vescovo Santa Griciniana e Actinea martiri i Santi Aureo Giustina e compagni eh certo San Quirico è il protettore dei bambini non lo sapevo eh San Teilidan venerato in Galles poi abbiamo San Ferreolo di Besançon e San Ferruccio di Besançon che sono rivelato prima ma sono di Besançon sono l'acqua io vado a rimbirmi infatti infatti nel giorno nel 1687 più di 300 anni dopo essere stato introdotto come simbolo nei documenti cittadini il toro diventa ufficialmente parte dello stemma della città di Torino fortissimo nel 1903 il farmacista statunitense Caleb Bradham regista un nuovo marchio per la bevanda da cui aveva dato il nome di Brad's Drink il nuovo nome è Pepsi Cola quindi nel 1903 è nata la Pepsi sì ufficialmente sì nel 1951 viene varato il transatlantico Andrea Doria la punta di diamante della protta italiana nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio nel 1978 esce nei cinema americani la versione cinematografica della spettacola teatrale Grease e nel 1980 esce a Chicago il film The Blues Brothers va bene sono nati oggi nel 1313 Giovanni Boccaccio scrittore del Decamerone nel 1829 Geronimo il condottiero degli Apache nel 1890 Stan Laurel l'attore che è protagonista esatto del duo Staglio Olio e nel 1971 Tupac Shakur il famoso rapper sì avrebbe avuto 52 anni oggi sì il proverbio del giorno è oggi a me domani a te mi sarà scritto bold ora tocca a te c'è tutta la spiegazione poi abbiamo la giornata internazionale dei bambini africani la giornata internazionale delle cascate la giornata mondiale delle tartarughe di mare la giornata internazionale dei soldi che la gente che si trasferisce per lavorare manda ai propri familiari per sostenerli una giornata molto specifica in inglese è molto più semplice da spiegare e la giornata delle verdure fresche oh ce le ho io le verdure fresche c'è un bello orticello in cascina ottimo ottimo anche io io non c'ho niente sì bene quando stavo guardando un attimo su twitter c'è un trailer di Airdresser Simulator è incredibile è il simulatore di parrucchiere sembra fatto bene sì c'è tutta la fisica dei capelli incredibile bestiale sembra effettivamente sembra effettivamente fatto bene posso radere a zero tutti fare lo strontone credo tu debba fare il modello ma poi devi anche vestirli cioè in base forse al vestito gli devi fare i capelli quello è il tuo personaggio vuoi creare il tuo personaggio creare il tuo parrucchiere di fiducia bello devi anche pulire il negozio riverniciarlo ma fighissimo questo lo aggiungo a lista desideri immediatamente fatto da frozen way questo è mark edi fatto millenials un gioco bellissimo ciò ma sono quelli di farm flipper di quelli solo farm flipper posso fare un sacco di cose Ricky sono quelli di house flipper vr builder simulator e l'espansione house flipper pets vabbè comunque ah però posso fare davvero tante robe eh guarda sì 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 gotico comunque marco no perché dici così il tuo momento marco vai no perché non puoi fermarlo alla fine del sento l'ultimo cavo invece di aspettare che ricominci poi fermarlo a metà perché in realtà ce l'ho tutta però adesso dammi un attimo adesso la taglio subito perché non c'è l'onda più profonda no perché lo posso fare con un click far sentire quasi quindi devo tagliare qui ancora di più aspetta è hanno punto ancora le zanzane k così finisce con k quindi k po così sarà ecco quindi sarà qui ah no finisce proprio dice k finisce con k e allora cos'era qua così poi lo dice capo comunque credo che non lo senti magari comunque si va bene così alla fine è quello tutta questa scusa per mandarlo più volte sentirlo più volte frego andiamo avanti con chiara nasti e mattia zaccagni che non è zaniolo compleanno a bellaria prima delle nozze a bellaria nella stessa chiesa di totti e della blasi li hanno dovuti infilare anche qui ragazzi pazzesco piccolino l'hanno scritto è così poi abbiamo diletta leotta potrebbe diventare il manager di lori scario se tra l'altro lo vorrebbero l'inter il milan e il monza è lei che lo vuole mandare lì perché è vicino a milano certo tra l'altro io al monza me lo accollo chrisen lo voglio poi in realtà il monza sta a posto però andiamo avanti con irina shaik a passeggio con l'abito sensuale e i calzini di spugna l'hanno detto come per dire è tutta fica e poi i calzini di spugna poi andiamo avanti al pacino è diventato di nuovo papà a 83 anni questa notizia io ricordo di averla già letta ah no ecco vedi perché ha superato robert deniro diventato papà per la settima volta a 79 anni era per quello avevamo letto quella di deniro a 79 anni lui a 83 è diventato papà ma la cuma non è tutta racida dopo un po' vabbè lasciamo stare andiamo avanti con no no certo non è quello no marco era sempre lui no ricky non è che decidi tu c'era scritto nell'articolo che c'era scritto nell'articolo che era quello di robert deniro almeno credo penso cos'è acido no niente niente no la prima volta hai letto che era incinta adesso è nato eh ma l'articolo che avevo letto era sempre diventa papà 83 anni allora perché io avevo letto qualcuno che diventava papà che era incinta la cosa eh no quindi effettivamente è lo stesso articolo no hanno fatto prima la notizia di quando come l'hanno scritto come l'hanno scritto lo stesso articolo perché hanno sempre detto il papà quindi Johnny Depp dà in beneficenza il risarcimento ricevuto da Amber Heard questa è una notizia che ho voluto mettere anche se non c'entra con le tette le cose però è di gossip quindi va detto tutti i 10 milioni che Amber Heard gli ha dato perché è una bastarda gli ha dato in beneficenza un gran signore potrebbero dire alcuni erano sette in realtà che mi ricordo io erano ridotti a uno perché non li aveva e invece a quanto parlo non è vero perché io ho letto un milione aveva dato poi a cinque enti però aspetta perché l'articolo dice dalla giuria di Fairfax che aveva fissato a 10 milioni poi magari l'hanno abbassato eh no l'hanno abbassato perché non li ha aspetta eh l'attrice ha saldato il conto per la cifra patteggiata dopo che era ah era il milione di dollari sì quindi effettivamente ma Amber Heard adesso è sotto i ponti provabile anche perché non credo lavorerà più comunque comunque sì la data è beneficente andiamo avanti con Paola Di Benedetto e Raul Bellanova flirt tra showgirl e calciatore quello dell'Inter sì chissà chissà ma io Paola Di Benedetto per me è sempre madre natura comunque me la ricordo per quello adesso sta facendo la BJ anche abbastanza programmi a proposito di madre natura avete letto che Bonolis non è potuto andare al funerale perché stava registrando proprio per quello anche perché non credo che puoi rinviare una registrazione perché comunque sono 200 concorrenti e rinviare una cosa con 200 concorrenti vuol dire pagargli l'albergo invece Emilio Fede è rimasto l'ha stato lasciato in autostrada no Emilio Fede purtroppo l'autista non l'ha accompagnato al funerale e al telefono gliela ha dette di tutti i colori anche Massimo Boldi e Razzi sono stati rimbalzati sono stati rimbalzati davanti sì lì dalla casa sì perché non poteva entrare ma poi in realtà da come dice il tizio la guardia si sapeva ci avevano detto che a parte pochissime persone anche era certo che lo sapeva però ha voluto accompagnare Boldi lo stesso per fargli accompagnare quindi Boldi letteralmente oh fatemi entrare oh Boldi si reputava un un familiare possibile ammesso andiamo avanti con i due momenti a marcordi il primo è tutti i successi degli 883 a un disco per l'estate del 98 come mai non studiò e hanno ucciso l'uomo al bagno scusami Moro scusacapo chi scusami chi chi gli smiths cantano al festival di primavera dell'87 questo se lo sono inventati il festival di primavera lo fanno in piazza a Botricello probabilmente non credo che andassero gli smith comunque un saluto a Corrado che tra l'altro li presentava Corrado Tedeschi che adesso ha vediamo un po' quanti anni ha Corrado Tedeschi sicuramente vi interessa il grande Corrado Tedeschi adesso ha 70 anni e passa il tempo ragazzi e basta andiamo al Guess the Game capo 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 non c'è non c'è non c'è ormai ce l'avevo in testa Guess the Game io ho due ipotesi questo è quello che abbiamo fatto come si chiama è Heated K2 o Grounded no Grounded sarà questo no perché non mi ricordo quel tizzo lì cioè non mi ricordo se fosse una secondo me è più Heated K2 il take su quando uscivi dalla cosa c'era l'ognomo mi hai fatto a ricordarti che non c'era un ognomo in il take su che non l'hai giocato nemmeno no in take su c'è l'ognomo non c'è in Grounded che ho giocato e non mi ricordo che ci fosse un ognomo in Grounded no che c'era un ognomo in Grounded mi ricordo benissimo non così non così però ma c'era l'ognomo infatti ma almeno ricordo benissimo non era così no che dossier di take su perché mi ricordo mi pare che ti ricorderai che questa sequenza è quella dove quella con l'aeroplanino si ma non lo metto in dubbio ma è una cosa come è possibile che vi ricordate delle cose del genere non ha senso abbiamo giocato un casino Grounded ma c'erano tra l'altro in entrambi c'erano gli gnomi come avete fatto a dire questo o no quello sì a esclusione a esclusione Marco abbiamo memoria evidentemente abbiamo più memoria di te io non ci credo io Grounded l'ho visto poco se mai siete pazzi se l'hai ricordato Luke che manco li ha giocati tutti e due se mai siete pazzi io me lo ricordo perché ho visto i text tool ma Grounded l'ho guardato un po' così sì anche graficamente è più ma grafica poteva sembrare tranquillamente Grounded in realtà cioè ma assolutamente ma è una cosa talmente specifica guarda ma stai facendo questo di barra verde sto sistemando perché si è aggiornato allora se tu prendi la parte della terra di Grounded e quella di Take You così come fai a capire che sono due grafiche diverse che sono tutte e due terra tra l'altro in entrambi c'era l'ognomo non abbia questo tipo di prospettiva Grounded è più aperto quello quello ha senso ma la grafica mi dice mai Ricky ha scritto mai uguale mai 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 si vede la terra il nano è completamente diverso non era così ma il nano se ve lo ricordate ok ma la terra è terra fate la terra io la recutavo quasi uguale come mai ma mai è terra come fate a dire mai mai vuol dire che sono due cose completamente diverse così tante radici così tanti dettagli nella terra no più che altro anche lo sfondo effettivamente se guardi anche lo sfondo con lo sfondo l'ano è di Grounded non c'erano quelle piante l'altro non Gugadi tra l'altro ma che menti superiori no la prospettiva come dice Luke effettivamente perché è molto più ampia quella di Grounded non poteva essere di Grounded se mi parli di prospettiva è palese se mi parli di grafica non è mai quella io ti rido in faccia perché la terra è terra la grafica è molto simile non è vero se tu mi dici non è mai quella grafica sono due cose completamente diverse se mi dici così e non è così la prospettiva è palesemente un'altra cosa c'ha ragione Luke quando mi ha fatto notare mi inchino davanti al capo Luke bene passiamo al clip termole con il silenzio cortesemente ha rotto tutta la bocca ma in realtà non abbiamo detto un problema di scrittura però siccome ha rotto tutta la bocca quindi non può più parlare non può più parlare è vecchissimo non può più parlare ha deciso di lasciare il canale e viene solo in chat per scrivere e scrive solo delle cacate ah e tra l'altro si tiene a specificare che se avete dei ventilatori non dovete mandargli a noi vabbè questa era la Rainbow Six comunque sì sentito da robottino ovvio la poster qui era 2.20 però sì era la 2020 proprio un lavoro di merda ragazzi andatemi un secondo scusate ma qui se non faccio le robe per bene potrei urlare potrei urlare non volevo fare il proiettone di questo era meglio farlo trasparente lo schermo cioè nel senso come in PNG era meglio farlo trasparente no perché poi il resto delle cose puzzava ma che povero è basta Ciscone basta dire cagate ma è meglio di noi ragazzi che povero c'ha una sua attività c'ha i dipendenti c'ha la macchina no è vero niente di quello che ho detto credo tanto no la macchina non lo so già tanto se cammina sta bene sta benissimo sta bene ragazzi lo vedete poverino era un santo Esprit Capitan lavoraci una settimana e mezza poi ci ritroviamo no poverino poverino sistemato tutto ora ragazzi sì 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 l'ho scaricato ieri non era così pesante in realtà perché c'era era tipo 6 giga 7 giga tipo anche qua con la grafica ho la scarico più lento l'ho scaricato comunque veloce abbiamo fatto dai finiamo sul dialog e dobbiamo finire qua eh sì Luca un saluto ti saluto con questa sigla eh becca allora eh sì eh un saluto